Musica Almeno due pagine al giorno Attualità, cultura, notizie, approfondimenti Con Francesco Piperis In questo istante, buongiorno, bentrovati a tutti Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dal Salone Internazionale del Libro di Torino alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 9 maggio 2024 E allora, insomma, l'abbiamo detto in tutti i modi in questi giorni L'ho anticipato anche stamattina Alessio Lerda all'interno di Play come sempre In questi ultimi giorni di avvicinamento Che da oggi fino a lunedì Una buona parte, anzi direi tutto il palinsesto quotidiano di RBE Si sposta all'ingotto di Torino per provare a raccontare in qualche modo Con una pluralità di voci Con un tentativo di racconto multiforme Il Salone del Libro L'edizione numero 36 Quest'anno, per il primo anno, sotto la direzione editoriale Di Anna Lena Benini Con lo slogan, il tema, il payoff, chiamatelo come vi pare Di vita immaginaria Questa, Sara Colaone E la responsabile dell'immagine, diciamo, di quest'anno E del coordinato di immagine di quest'anno Rispetto ad una programmazione che è a dir poco mastodontica Nel senso che ci sono, forse come non mai, diciamo Un numero di eventi davvero altissimo Tra presentazioni, workshop, appuntamenti con i più piccoli L'Arena Bookstock, tra l'altro, che ha i colori del mare I colori dell'oceano Ha un colore veramente bellissimo E che vi invitiamo anche a visitare Così come vi invitiamo anche, sin da ora Se siete all'ingotto O se siete adesso a casa O ci state seguendo in macchina O dal lavoro Insomma, non me ne vogliono i datori di lavoro Se state seguendo queste dirette E insomma, avete in programma di venire al salone quest'anno Sappiate che qui al padiglione 3 Allo stand N146 Sarà possibile fare una sorta di radiocollettiva Perché per la prima volta proviamo insieme Alla messa a disposizione da parte della Spiga Edizioni Di una traduzione del piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry Di leggere insieme le pagine di questo capolavoro Non soltanto per i più piccoli ovviamente della letteratura Di tutti i tempi Sarà possibile registrare Abbiamo una pedana podcast Che abbiamo provato a intitolare In maniera come dire Anche se vogliamo un po' prosaica C'è podcast per te Fai la radio con noi Sarà possibile partecipare in questo modo Anche alle nostre attività Dal Salone del Libro di Torino Succede questo Succede molto altro Perché questa Se ci seguite con una certa frequenza Sapete che è la trasmissione La rassegna stampa culturale Se vogliamo che ogni giorno Dalle 10 alle 11 Vi tiene compagnia su RBE Sia in FM Ma anche sul sito Anche sul digitale terrestre Al canale 87 Nelle province di Torino Cuneasti Si intitola almeno due pagine al giorno Racconta la cultura a 360 gradi La decliniamo il più possibile Ampiamente la cultura E guardiamo negli occhi Provando a raccontarla L'attualità Questo è quello che succede Da qui fino alle 7 Ogni giorno Da oggi fino a lunedì Dal 9 al 13 maggio Al Salone Internazionale del Libro di Torino Intanto voglio Come dire E da tradizione anche Propria di almeno due pagine al giorno Tra poco vi racconterò anche Di un paio di eventi Come dire Non piacevoli Che riguardano il mondo Della cultura in generale Ma intanto però Voglio dare il benvenuto Per aprire Sono molto contento Di aprire Le dirette di RBE Dal Salone del Libro Do il benvenuto Enrico Panero Qui accanto a me Ciao Enrico Buongiorno Ciao a tutti Grazie per aver accettato Il nostro invito Per chi ci segue Con costanza Sa che Enrico Panero Un giornalista Si occupa del mensile Della strada Scarpe de Tennis E ogni mese Da sei mesi più o meno Stiamo raccontando Ogni mese I contenuti Del numero È uscito il numero di maggio Da pochi giorni Oggi 9 maggio È la festa dell'Europa E ampiamente Con Enrico In questa Prima puntata Dal Salone del Libro Di almeno due pagine al giorno Parleremo Anche di Europa Ma intanto Però vi dicevo Ieri sono venuti a mancare Due Diciamo Due Rappresentanti Diciamo Cruciali Se vogliamo Uno per il mondo della musica L'altro Diciamo Anche per la cultura Di sinistra impegnata Ma di impegno Socioculturale In Italia è morta Giovanna Marini Ma insomma Voglio però Come dire Anche ricordare In maniera Come dire Appropriata Sti Valbini Che è stato uno Dei più grandi Produttori Musicali Di tutti i tempi Che ha prodotto Grandi dischi Un numero Infinito di dischi Ricordo Tanto per dirne uno In utero il canto del cinchio De Nirvana Così come i dischi Dei Pixis Suonava a sua volta Negli shellac Nei big black Insomma Una figura Mostruosamente enorme Che ci lascia 61 anni Per un infarto Ed è a questo proposito Che vogliamo Cominciare Le nostre dirette Con un tributo A Steve Valbini Da quel disco Di cui abbiamo Poco fa parlato Che è in utero Pubblicato da Geffen Records Nel 93 Se non sbaglio Dei Nirvana Quella che ascoltiamo Insieme E salutiamo Ovviamente Steve Valbini Ma rimane Come sempre Anche se suona molto retorico Tutta la sua orta E tutti i dischi A cui ha lavorato Questa è Art Shade Box E questa è Art Shade Box Dei Nirvana Abbiamo Aperto Insomma Ricordando Steve Valbini Un grande Un grandissimo Produttore Disco grafico Musicale Che ha lasciato Un segno Indelebile Nel mondo Della cultura Musicale Di almeno Diciamo Gli ultimi 30 35 Se non 40 anni E questo è uno Dei Diciamo Dei lasciti Questo disco In utero Il canto Del cigno Dei Nirvana Uscito per Geffen Records Nel 1993 Quella che abbiamo Ascoltato E Art Shade Box E allora Ufficialmente Davvero Possiamo dire Di aver Aperto Come dire Le danze Di RBA Delle dirette Di RBA Dal Salone Internazionale Del Libro di Torino Intanto Sono Molto contento E do il benvenuto Anche ad una classe Diciamo D'una scuola media Di collegno La Gramsci Che è venuta A trovarci Che ha già Affollato Uno stand Che è a disposizione Del pubblico Proprio perché Può essere vissuto In maniera Diciamo Da protagonisti Se vogliamo Abbiamo detto Insomma C'è questo podcast Che sarà possibile Registrare insieme Ma intanto Io do ancora Una volta Il benvenuto Ad Enrico Panero Qui con me Diciamo Ad aprire Il racconto Del Del Salone Del Libro Di quest'anno Enrico Grazie ancora Per essere qui Grazie a voi Ciao a tutti Allora Abbiamo Diciamo Ogni mese Da prima di Natale Noi raccontiamo Eccola qui Questa rivista Che si chiama Scarpe the Tennis Il mensile Della strada Un giornale Che insomma Adesso Se Enrico Avrà voglia Potrà raccontarci Ancora una volta Di che cosa Si occupa Un giornale Che mensilmente Diciamo Gira Nelle città Italiane E che racconta Il lavoro Ma non soltanto Diciamo Il lavoro Di chi È accanto A chi Non ha una dimora Fissa Diciamo Ma racconta Anche Diciamo Una cultura Che si fa Vicina Oppure Un'assistenza Socioassistenziale Che si fa Molto vicina Diciamo A chi fa Fatica Intanto però Del numero Di maggio Di Scarpe the Tennis Parleremo Tra poco Perché Lo dicevamo In apertura Oggi 9 maggio 2024 È la festa Dell'Europa Allora Enrico Lo abbiamo detto Più volte Lo ribadiamo Ancora una volta Enrico Panero Si occupa di questioni Di tematiche Europee Da sempre E Quanto meno Da 35 anni Perlomeno da quando c'è l'Europa Perlomeno da quando c'è l'Europa Esattamente Però sicuramente Almeno da una trentina D'anni Se vogliamo E Che cosa Di che cosa Stiamo parlando Questa E tra l'altro È un anno Ed è una festa Dell'Europa Quella del 2024 Ad uno snodo Fondamentale Perché ci sono le elezioni Perché abbiamo La guerra in casa In qualche modo Come dire L'Europa deve provare Come dire A dare delle risposte Evidentemente In questo momento Le risposte Se ci sono Sono per usare Un eufemismo Quanto meno Ambigue Diciamo Enrico Sì Intanto anche per i ragazzi Che sono qua con noi Magari Spiegare perché il 9 maggio Si festeggia L'Europa Perché nel 9 maggio Del 1950 L'allora ministro degli esteri Francese Robert Schumann Fece una proposta Agli altri paesi Il contesto è questo Si era appena usciti Dalla seconda guerra mondiale Finita nel 45 Quindi Cinque anni prima Il ministro degli esteri Di un paese importante Già allora Ma anche oggi Come la Francia Propone ai partner Agli altri paesi europei Di mettersi insieme In qualche modo Per garantire Diciamo Una cooperazione Tra paesi europei E quindi Fa questa proposta Questa dichiarazione Di Schumann Il 9 maggio Del 1950 E da allora Ogni 9 maggio Si ricorda La nascita Diciamo Di quella che Nella sua proposta Era la comunità Europea Del carbone Dell'acciaio Quindi Che nasceva su Questioni prettamente Commerciali Ed economiche E che poi Piano piano Nel corso Di questi 74 anni Arriva fino a noi Con alcuni passaggi Importanti Nel 1957 Nasce la comunità Economica Europea Quindi non solo più Del carbone Dell'acciaio Ma di tutta Diciamo La parte economica Dei vari paesi europei Ricordiamo che La proposta iniziale Viene presentata Dalla Francia A Germania Italia Che quindi Fin dalle origini Che ne abbiano detto In questi anni Molti esponenti Politici italiani Per cui Ce lo chiede l'Europa Ce lo chiede l'Europa Ma l'Europa Siamo noi Perché siamo Tra i fondatori Addirittura Della cieca Cioè della comunità Economica Dell'acciaio E del carbone Quindi Italia Insieme a Francia Germania E poi i tre paesi Del Benelux E quindi Belgio Paesi Bassi E Lussemburgo Da questo nasce Quindi da questi Da questi sei paesi Fondatori Arriviamo oggi A 27 paesi Con passaggi importanti Che sono stati Ad esempio Nel 92 Il trattato di Maastricht E nel 2007 Il trattato di Lisbona Che poi diventa Con un passaggio intermedio Che oggi È molto attuale Perché In queste settimane Si celebrano I 20 anni Del più grande Allargamento Che c'è stato Cosa vuol dire Allargamento Vuol dire Come vi faccio vedere Una vignetta Che lo rappresenta bene Ricordiamo che questa Vignetta è una vignetta Realizzata da un'altra Diciamo presenza Molto di casa Qui a RBI Ma anche Ad almeno due pagine al giorno Che è Stefano Frassetto Il disegnatore Vignettista Che ogni mese Per la rivista Euronote Che cura Enrico Panero Realizza una vignetta Tematica Se vogliamo Mese per mese Rispetto al tema Proposto Diciamo dal numero Di Euronote mensile Questo è un disegno Che spiega Abbastanza bene Cosa significa L'allargamento C'è un palloncino Che ha la bandiera europea Che viene gonfiato E però rischia L'esplosione Perché siamo un po' Insomma Si è passati da quei sei paesi Di cui dicevo prima Agli attuali 27 Ma In queste settimane In questi mesi Si discute Per un prossimo futuro Possibile allargamento Ad altri dieci paesi Addirittura Quindi Diciamo Il pretesto Dell'Ucraina È stato Ha velocizzato Questo processo Di allargamento Che riguarda Riguarderà I paesi Del Balcano Occidentale Più Altri paesi Appunto Come l'Ucraina E la Moldavia Insomma Ci sono C'è questo Diciamo Tra virgolette Rischio Che entro Un tot di anni Ma non tantissimi Gli stati membri Dell'Unione Europea Arrivino a essere 36 o 37 Se addirittura Si aprirà la Turchia Cioè Diciamo Un 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 Contenitore Che Al livello Di decisioni Politiche Economiche Serie Ma anche Sociali Difficilmente Potrà funzionare Allora Si stanno facendo Dei ragionamenti Sul tipo di Governance Su questioni Politiche Di equilibri Politici Maggioranza Decisioni Prese all'unanimità Oppure maggioranze Qualificate Ma qualificate In che modo Paesi più Importanti E in questo Si spiega Anche Si spiegano Diciamo Le strategie Che i vari Leader Dei paesi Più Più Importanti Stanno Attuando Pensiamo a Macron Che in queste Settimane Considerando il fatto Che c'è questa guerra Che si tende Probabilmente Forse anche Da parte di alcuni Paesi membri A chiamare Più possibile In casa Diciamo Questo Sembra anche Un atteggiamento Particolarmente Suicida Se vogliamo Da parte Di alcuni Paesi Diciamo Dell'Unione Europea O La mia visione Diciamo Una visione Fin troppo Catastrofista Il problema È che Non essendo Mai Arrivati Ad un'Unione Politica Reale Perché l'Unione È sempre stata Prettamente Economica Dalla ceca Del 50 A oggi Diciamo Che l'Unione Europea Viaggia Veramente Su questioni Economiche E non Su questioni Politiche Come coesione Tra i paesi Europei Mi colpisce Allora La dichiarazione Di Schumann Di cui parlavo Prima Che oggi Si ricorda Essendo il 9 Maggio Inizia con Questa frase La pace Mondiale Non potrà Essere salvaguardata Se non con Sforzi creativi Proporzionali Ai pericoli Che la minacciano Nasce così L'Unione Europea Questa frase Oggi Attualissima Perché oggi Cosa sta facendo L'Unione Europea Quali sono Gli sforzi creativi Per cercare Di evitare Le minacce Alla pace Zero Direi Anzi Negli ultimi mesi Abbiamo visto Questa corsa A riarmo L'Unione Europea Tutti i paesi A livello mondiale Sono usciti i dati Del CIPRI Dell'International Institute Di Stoccolma Sulla pace C'è una corsa A riarmo mondiale Ci sono i dati Più alti Degli ultimi anni Tra l'altro Scusami se ti interrompo Ma a questo proposito Voglio ricordare Se ci seguite Con costanza Che Alessio Lerda All'interno di Play Ha raccontato Ha raccontato molto bene I contenuti Dell'ultimo Rapporto Del CIPRI Insieme a Francesco Vignarca Che fa parte Della rete Pace di Sarmo Rispetto Proprio a questa Minaccia Preoccupante Se vogliamo Di questa corsa Pacifica Pensiamo che un mese fa L'attuale presidente Del Consiglio Europeo Michel Parlò di Necessità di prepararsi A un'economia di guerra Questa è l'Unione Europea Oggi Quindi I dati A livello mondiale Dimostrano Una corsa Riarmo Generalizzata Con delle chicche Pazzesche Tra i paesi europei Ad esempio E chi ha aumentato Di più Nell'ultimo anno Le spese per armamenti È la Polonia Del 75% A livello mondiale La Repubblica Democratica Del Congo Che è paese Di cui parliamo poco Ma che veramente È il luogo Di una guerra Infinita Che dura Da 20 anni Da sempre Però appunto L'idea di spostare L'attenzione europea Sulla necessità Di armarsi Si parla di difesa comune Di necessità di armamenti Come C'è ancora questa retorica Sterile Della deterrenza Più ci armiamo E più siamo sicuri Che è una stupidata No? Però funziona Perché intanto L'industria degli armamenti Sta andando alla grande L'economia si risolleva È il solito discorso No? Poi spesso le guerre Servono anche a quello Ma tornando E chiudendo Sull'Unione Europea Siamo qui Siamo qui Che dopo 74 anni In realtà Non c'è un'unione politica L'unione A livello economico Oggi È improntata Sulla necessità Di armamenti E quindi Sull'industria bellica Quindi diciamo Che non è Un bel anniversario Abbiamo ancora un paio Un paio di minuti Ma te lo chiedevo Diciamo un paio Di numeri fa Di Scarf the Tennis Si stava cominciando Ad entrare nel vivo Dalla campagna elettorale Per le europee E ti chiedevo Ma diciamo Dal tuo osservatorio Insomma come vedi Diciamo Queste elezioni Cosa succederà Adesso manca Veramente pochissimo E diciamo Devo dire Che nel frattempo Diciamo Ci sono stati Dei posizionamenti Ben chiari Da parte Diciamo Delle forze Politiche Dei raggruppamenti Europei Che aria tira Che cosa Si può Immaginare Per quanto sia possibile Io non credo Ci saranno Grandi stravolgimenti Nel senso che Alla fine Poi le politiche Vengono determinate Soprattutto Da come sarà Costituita E formata La Commissione Europea La Commissione Europea La determineranno I grandi partiti Che hanno la maggioranza All'interno del Parlamento Europeo Che può essere Che sono Il Partito Popolare Europeo E i socialisti europei Che ad oggi Sono alleati Pur avendo posizioni Molto diverse tra loro Ma piuttosto che Dare spazio A tutti i partiti Che sono Diciamo Non favorevoli All'Unione Per come oggi Tenderanno A mantenere Questa coalizione Per cui dipenderà Un po' Da Al limite Si conteranno i voti Se prevale Il Partito Socialista Europeo O il Partito Popolare Europeo Per determinare Poi il Presidente Della Commissione Che è poi La Commissione Europea E poi il Governo A tutti gli effetti Dell'Unione Europea Al vaglio del Parlamento Però poi le politiche Le decide Poi Le propone Come per lo meno La Commissione Europea Quindi ti dico Non credo Che ci saranno Grandi stravolgimenti Allora intanto Siamo giunti Alle 10.30 Siamo quasi Alla pausa Come vi dicevo In apertura Dividiamo Questa conversazione Come al solito Insomma Lo sapete benissimo All'interno di almeno Due pagine al giorno Cerchiamo di Come dire Raccontare I contenuti I temi Diciamo Basando il nostro scambio Su una sorta di conversazione La prima Era doverosamente Dedicata La prima parte Alla festa dell'Europa Oggi 9 maggio 2024 Che coincide Anche con l'inizio Del Salone Internazionale Del Libro di Torino La seconda parte La dedicheremo Massicciamente Diciamo Ai contenuti Del numero di maggio Di Scarve Tennis Voglio intanto Cominciare Anche ad anticipare Il titolo Ecco Se ci vedete Sul canale 87 Del digitale terrestre Oppure sul sito rbe.it In streaming Malati di cibo È il tema Portante Di questo numero Di maggio Di Scarve Tennis Ma insomma Tra poco Sicuramente Torneremo A parlare Di questo contenuto Così come Di altri contenuti Che riguardano Anche Come dire La specificità Anche territoriale Del lavoro quotidiano Di Enrico Panero Intanto Allora Spazio A muoversi in Piemonte All'infotraffico E al genere Di Popolare Network A tra poco Questa Seconda Parte Di almeno Due pagine Al giorno Nella prima giornata Dal Salone Internazionale Del libro Di Torino Intanto Ancora Grazie ad Enrico Panero Qui con noi Insomma Nella prima parte Abbiamo Raccontato Il 9 maggio Festa Dell'Europa Abbiamo Un aggancio Al numero Di maggio Di Scarpe De Tennis Perché Hai curato Anche uno Spazio Che parla E' un tema Di cui abbiamo Parlato anche Diciamo Nei mesi scorsi Rispetto Alla povertà I numeri Della povertà In Europa Se non sbaglio Insomma In questo Approfondimento Su Scarpe De Tennis Io su Scarpe De Tennis Curo una rubrica Fissa sull'Europa Sull'Europa sociale In sostanza E Appunto Mi veniva Come aggancio Al discorso europeo Sul numero Di maggio Sulla mia rubrica Europa Cito Questo Poverty Watch Cioè Questo rapporto Che ogni anno È curato Dalla rete europea Di lotta Alla povertà Che fa un bilancio Che dimostra Ancora una volta Quello che dicevamo Prima Cioè Che l'Europa A livello Diciamo Di politiche Efficaci Non è molto efficace Quella Per la lotta La povertà È un esempio Purtroppo Drammatico Perché ci sono Più di 95 milioni Di persone Nell'Unione Europea A rischio di povertà Di esclusione sociale Consideriamo Che Uno degli obiettivi 2030 Dell'Unione Europea Era di ridurre Di 15 milioni Il numero Delle persone Appunto In povertà O a rischio di povertà E Questo obiettivo Già oggi Si può dire Che è irraggiungibile Perché a sei anni Da quella data Il numero delle persone Diciamo Nel post pandemia Addirittura Ha aumentato E quindi Questo è un esempio Del fatto che Politiche efficaci Possono essere Prese solo Se c'è un'unione Di Così Di un obiettivo comune Tra i paesi Dell'Unione Europea E lo si vede Sulle migrazioni Lo si vede Su un sacco Di altre cose Per cui Se ci sono dei veti Se ci sono Delle posizioni Diverse Di alcuni paesi C'è il rischio Che si blocchino Poi le iniziative Che possono poi Influire Veramente Sui cittadini E questa Della povertà È appunto Abbastanza emblematica Della Inattività O comunque Di un'attività Che non è Poi Mirata a raggiungere Gli obiettivi Reali Allora Si diceva Del numero Di maggio Di Scarlet Tennis Il numero 280 Vi Insomma Ripropongo La copertina Di questo numero Di maggio Malati Di Cibo Per i giovani Sotto i 30 anni Disturbi Del comportamento Alimentare Sono la seconda Causa di morte Dopo gli incidenti Stradali In Italia Ne sono affetti 3 milioni Di persone 9 su 10 Sono donne Hanno meno Di 25 anni Ammalarsi Può capitare A tutti Ma si può guarire Vengono forniti Dati Storie E testimonianze Enrico Questo è il tema Diciamo Trainante Del numero E' un tema Sul quale Diciamo Non si finisce Mai abbastanza Di riflettere Perché E' un tema Che riguarda Sempre più Persone Nel mondo Parliamo anche Mi immagino Anche numeri Che riguardano Pure l'Italia In questo vostro Speciale Però insomma E' un tema Drammatico Questo qui Guarda Tecnica Praticamente DCA I disturbi Dei comportamenti Alimentari E chiaramente E' un problema Che riguarda Soprattutto i paesi Ricchi Chiaramente Perché In due terzi Del mondo Il problema È inverso Il disturbo Alimentare Non si pone Nemmeno Perché non c'è Neanche Il necessario Per sfamarsi Però E' una questione Abbastanza complessa Che Diciamo E' legata Sempre A patologie Quanto meno Psicologica Se non addirittura Psichiatrica E' complessa Nel senso che Non si può parlare Di causa unica L'approccio Che ne so Psicologico A volte Io mi ricordo Nel corso degli anni Si è sempre associato Il disturbo alimentare Con il rapporto Con la genitore Con la madre Con il padre Sì C'è anche quello Ma in realtà C'è molto Molto di più A me colpisce il dato Perché 3700 E più Morti 3780 Ecco Quasi 3800 morti In un anno Per disturbi alimentari Di cui Due terzi Sotto i 25 anni E di cui Credo Oltre al 90% Femmine Quindi è un problema Che colpisce Soprattutto le ragazze Perché si parla Di giovani E che Molto spesso È vero Che c'è anche Il rapporto Con i genitori Ma c'è anche Un'accettazione Di se stessi C'è un rapporto Relazionale C'è la pandemia Il lockdown Questa roba Ha amplificato tantissimo Dai dati Dei nuovi arrivi In alcuni In alcuni Reparti Ospedalieri Dove si curano I disturbi alimentari C'è stato Un numero doppio Dopo il covid Dopo Ma più che il covid Dopo Sì Anche il covid Perché Oltre che la chiusura E quindi la chiusura Dei rapporti Delle relazioni C'è anche l'ansia L'ansia della malattia L'ansia della morte L'ansia del Problema di salute Quindi tutte queste cose qua Diciamo In genere Quando ci sono già Dei problemi di base Perché non è quello Scatenante Però questo è andato A influire molto E quindi È un dato grosso Perché come dicevi Accennavi tu prima È la seconda causa Di morte per i giovani Dopo gli incidenti stradali Quindi si parla di Ed in più Aggiungerei un aspetto Molto importante Che Scusate Che quando C'è un problema In casa Di una persona Di una ragazza Quasi sempre Ma può essere anche un ragazzo Che ha dei disturbi alimentari Il problema è per tutta la famiglia Non è un problema Non è un problema del singolo Perché immaginiamo cosa vuol dire Leggevo l'intervista a una madre Che dice Immaginate cosa vuol dire Ogni volta che ci si siede A tavola per fare pranzo Cene A avere una figlia Che mangia Un piattino di riso Cioè mangia Che affronta Un piattino di riso Un chicco alla volta Certo Per dieci minuti E poi se ne va Uno stilicidio Immaginate il clima familiare Quindi c'è tutto un problema Anche di depressione Esaurimento Per i fratelli Le sorelle I genitori No È un problema Grosso Perché appunto Se si stimano Circa tre milioni di persone Che in Italia Hanno questo problema Dei quali Credo che Circa ventimila Lo stiano affrontando Come patologia Come cura Pensate che A livello proprio Di fenomeno sociale Quanto incide Poi sulle famiglie italiane Insomma Il numero Diciamo Il tema principale Di questo numero Ha diversi versanti Perché Si parla anche Di alleanza pubblico privato Contro disturbi alimentari C'è anche Una conversazione Con L'esperto Diciamo Che ha scritto Anche un libro Andrea Cassadio Mangia Bevi Ama Lo dice La scienza L'ossessione salutista Fa male alla salute Il titolo del libro Rispetto all'ossessione Diciamo anche estetica Oggi la nostra cultura Si legge Nell'articolo Di Cassadio Stesso La nostra cultura occidentale Ci chiede Di essere belli Magri E perfetti Chi si ammala Di anoressia Tormentato da quest'ansia Di perfezione Che si è propagata Dentro le famiglie E poi E poi come Diciamo Nella tradizione Anche di Scarve Tennis Ci sono le voci Le voci Dei protagonisti Diciamo Di chi è coinvolto In questa In questa Tragedia quotidiana Che Che non è mai Soltà Individuale Ce lo diceva Poco fa Anche Enrico Ma insomma È una tragedia Di sistema Se vogliamo Per riguardare Le famiglie Riguarda anche Gli enti Che devono occuparsi Diciamo anche Di tale patologia Enrico Se sei d'accordo Se non hai altre Questioni Rispetto a questo Speciale No Sono una cosa Proprio nell'apertura Dell'articolo Di Cassadio Viene citata Questa mamma Di una ragazza Che ha questo problema Che era stata invitata Da lui Come testimone Nella sua trasmissione La mamma Rifiuta Cioè non vuole Che la figlia Metta la faccia E racconti la sua storia Mentre la pagina successiva C'è una ragazza Che ha avuto problemi Che dice È necessario Esternare Raccontare Perché è già un inizio Di soluzione Al problema Questa mamma Dice Fosse ammalata di cancro Sì La lascerei Testimoniare Ma visto che è anoressica No Perché è una vergogna Ma perché è una vergogna Per la famiglia Per quella mamma Perché c'è molta responsabilità Del genitore anche Mentre Il cancro Voglio dire Ti viene Non si sa bene perché Ma quasi mai Per responsabilità Relazionali Ma può essere Oddio anche Ma non in modo così Oggettivo In un disturbo alimentare Chiaramente Come dicevamo prima C'è questo aspetto psicologico Che molto spesso Deriva dalle relazioni Anche familiari Quindi questa mamma Si rifiuta assolutamente Di fare in modo Che la figlia Possa mettere a disposizione La sua esperienza E come dicevamo prima Certo Il problema È molto spesso Dei genitori Ma Qualche Forse il mese scorso Due mesi fa Non ricordo Parlavamo del gioco d'azzardo Tra gli adolescenti Certo È molto simile Perché poi Quando non ci si accetta C'è difficoltà Di accettare Se stessi La risposta Dei ragazzi Una ragazza Dice Io ho iniziato A avere problemi Ho scelto Di avere problemi alimentari Forse la stessa ragazza Che parlavo prima Per riprendermi In qualche modo Anche se in modo Patologico E drammatico Il controllo Del mio corpo Della mia persona Perché era controllata Dai miei genitori Che decidevano A che scuola Dovevo andare Chi dovevo frequentare Come mi dovevo vestire Quanto dovevo essere Grasso magra E alla fine è scoppiata Quindi Alcuni si Diciamo Con problemi Di Di Esistenziali No Classici dell'adolescenza Alcuni possono avere Problemi alimentari Altri possono buttarsi Sul gioco d'azzardo Altri su sostanze No Le droghe Però Diciamo che è uno Dei grossi problemi Soprattutto della fascia adolescenziale Mi vorrebbe da dire Anche rispetto Rispetto al non detto Si va di tabù in tabù Una volta era un po' Un tabù anche il cancro Parlare della malattia Oggi è addirittura Diciamo la Come dire Il disturbo alimentare Insomma Va tenuto nascosto Enrico Panero In questo numero Di Di Scarpe de Tennis Ha curato anche Altri due Servizi ampi Un dossier Sul Sul carcere Diciamo che Il tema del carcere È un altro di quei temi Che insomma Sia all'interno Di almeno due pagine al giorno Ma anche all'interno di Play Viene raccontato Purtroppo con drammatica Frequenza Tu questa volta Ti sei occupato Per la rivista Di sovraffollamento Di degrado La situazione È una situazione A dir poco Esplosiva Forse già esplosa E tragica Diciamo che Io non saprei più Come definire La situazione In cui versano Le carceri italiane C'è stata Questa relazione Annuale Del Garante Per i detenuti Del comune di Torino Monica Gallo Che ha fatto Il quadro Dell'attività E della situazione Al 2023 Dell'anno scorso Gli elementi Lei l'ha fatta Sul carcere di Torino Ma poi come sempre La complessità È ampia Lei è una persona Molto preparata Sulle questioni del carcere E quindi Il quadro È stato fatto Anche a livello nazionale Mi ha colpito molto Che sia partita Citando i nomi Delle persone Detenute Che si sono suicidate Nel carcere di Torino Nell'ultimo anno Perché? Perché la questione Dei suicidi È emblematica Della situazione Del carcere I problemi grossi Sono il degrado E il sovraffollamento Il sovraffollamento È enorme Nel senso che A marzo Credo 2024 Il numero Dei detenuti Era circa 61.000 Su una capienza Regolamentare Di Quasi 10.000 In meno 51.200 51.000 Credo 2.300 Quindi ci sono Quasi 10.000 Detenuti In Italia In più Del dovuto Questo crea Grossi problemi Relazionali Grossi problemi Di carenza Di personale Che permette Ai detenuti Di far altro Che non Marcire In una cella Chiaramente Tutto ciò Crea tensioni Crea grossi Problemi Psicologici Psichiatrici Che su Fragilità Già esistenti Può portare Suicidio Può portare Auto lesionismo Può portare Aggressioni Rispetto Alle guardie Carcerarie Ma anche Tra detenuti Tutto questo In strutture Abbastanza Fatiscenti Perché poi Il degrado Anche interno È notevole Si immagini Se su una struttura Che non è proprio All'altezza Si innesta Il sovraffollamento Cioè in celle Da quattro Si è in otto E con il covid Anche qua Torniamo sempre Alla pandemia Diciamo il periodo Post covid Ha ridotto Tantissimo L'accesso Sia al lavoro interno Attività interne Anche perché Con carenze di personale Sono poco coordinate Perché in realtà Il mondo del terzo settore Volontariato In carcere È molto presente Con progetti Interessanti Ma spesso Non c'è un grande Coordinamento Tra l'attività E soprattutto Quello che manca Di più È l'affidamento Esterno Il lavoro esterno Ricordo i direttori Brillanti delle carceri Negli ultimi anni Hanno sempre detto Il detenuto In cella Dovrebbe solo dormire Tutto il resto del tempo Dovrebbe passarlo In attività In studio In lavoro esterno E invece no Quindi con 10.000 persone In più del dovuto Chiuse in cella Si immagini Quale può essere La situazione Abbiamo ancora Due minuti Enrico Quindi ti chiederei Diciamo Di stare In questi tempi Perché siamo quasi In chiusura Di almeno due pagine al giorno Un altro servizio Molto interessante Perché l'altro elemento Importante Di Scarpio dei Terni Ci sono anche Le buone pratiche Diciamo Le buone pratiche Anche di cittadinanza Mi verrebbe anche Da aggiungere Parli di un progetto Che si chiama Open House L'abitare inclusivo Dove i giovani Aiutano il territorio Qui ci siamo spostati Nel Cuneese In realtà Ci racconti In due battute Se possibile ovviamente Ti chiedo scusa Insomma Sì guarda Cuneo città Perché Cuneo Insieme a Biella Sono due realtà Che sono entrate Nella rete piemontese Di Scarpio dei Tennis Cioè dove il giornale È presente Dove abbiamo iniziato A avere delle persone Insalite nel progetto E si vende il giornale Anche a Cuneo E a Biella Quindi stiamo cercando Di dare anche un po' Di visibilità Alcuni progetti Dei due territori Su Cuneo In questo mese Abbiamo parlato Di questo progetto Di due cooperative sociali Di Cuneo Che hanno dato Danno la possibilità Con due alloggi Di coabitazione A ragazzi Tra i 18 I 30 anni Diciamo Economicamente fragili Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono ancora In grado Di vivere autonomamente In alloggi Da mercato privato E hanno un affitto Calmirato Vivono in coabitazione Svolgono Diciamo Attività Insieme Comuni E le cooperative Li supportano Con dei laboratori Di educazione domestica Diciamo È una palestra All'andare poi A vivere Da soli dopo E mentre Non si è ancora Economicamente Indipendenti La cosa interessante È che sono persone Di nazionalità Italiana C'è un ragazzo Con intervistato Che fa il servizio Civile a Cuneo Che è della provincia E quindi in città Avrebbe dovuto Muoversi viaggiando Non poteva vivere in città E grazie a questo progetto C'è E convive con Tre persone Di nazionalità diversa Che Due dei quali Escono dai progetti Sai Di accoglienza Per rifugiati E quindi Mi raccontavano Queste cene Multiculturali In cui c'è Ci sono molte discussioni Sulla vita quotidiana Con punti di vista diversi La cosa interessante Che mi diceva Questo ragazzo È che Grazie al Conoscere Direttamente Persone Che hanno avuto Fino a quel momento Si parla di giovani ventenni Vite così diverse È molto interessante Perché ti fa capire L'umanità Ti inserisce nell'umanità Questo è interessante E questi sono Allora alcuni dei contenuti Del numero di maggio Di Scarpio Tennis Intanto Allora Enrico Noi siamo in coda Grazie per aver Tenuto a battesimo Diciamo Le dirette Di Di RBI Dal Salone Di quest'anno Noi siamo davvero in coda L'appuntamento è per domani Sempre alle 10 Sempre dal Salone del Libro Adesso Spazio al GR E poi a Caffè Blu di Claudio Petronella Noi ci ritroviamo domani Sempre alle 10 Sempre dal Salone Internazionale Del Libro di Torino Ciao a tutti